Per controllare Squid Game, devi essere in ottima forma. Non puoi sconfiggere gli avversari in questo modo. Kevin sa sempre quando è il momento giusto per chiamare. La conversazione è andata avanti per troppo tempo. Oh cielo, è pesante! In ufficio! Resistete ragazzi, sarà presto finita. Kevin desiderava entrare nell'ufficio della mamma da molto tempo. La frontwoman di Squid Game ha tante cose interessanti. Ops! Cos'è? Una maschera VIP! Wow! Cos'è quella boccetta misteriosa? Perché non succede niente. Giusto! Devi premere il codice giusto. Oh, è una cortina di nebbia. Te l'avevo detto di tirarli fuori. Da dove viene questa nebbia? Oh, Kevin! Kevin! Hmm, questo significa che giocherà anche lui. Ross e Morty sono al telefono. Cosa stanno guardando? No, non hanno bisogno del terzo incomodo. Via di qui! Visto, vero? Devi solo voltarti al momento giusto. Ma Kevin non ha intenzione di arrendersi. Forse è meglio guardarlo dall'alto. Wow! Dei giocatori astuti hanno trovato degli hack. E ora sanno come vincere i giochi di Squid Game. Pensate di essere i più intelligenti? Ve la farò vedere. Il piccolo di mamma ha deciso di lamentarsi del fatto che gli altri lo trattano male. È ora che la front woman faccia qualcosa. Via! Giù le mani! Mamma! Stanno usando dei trucchi! Ecco, stanno guardando i video. Incredibile! I ragazzi hanno sottovalutato Kevin la spia. E ora dovranno pulire la stanza. Ehi, guarda! Che buffo uomo con i baffi! Cosa? Smettila di scherzare! Puoi essere serio? Wow, ottimo! I biscotti! Dammi questo! Rostevin tagliare una forma semplice. Anche Morty ha un compito facile. Ma Kevin è nei guai. Questa coppia non dovrebbe ridere del proprietario dell'ombrello al caramello. Sai cosa? Oh, mamma! Non lascerà suo figlio nei guai. Con il quadrato ce la farà. Buonissimo! I suoi avversari hanno ricevuto una sorpresa. Beh, che fallimento! Kevin ha già finito. Ehi, non è giusto! Ragazzi, meno chiacchiere! Il tempo sta finendo. Dovete sbrigarvi! Mentre Morty e Ross fanno sogni d'oro, Kevin decide di fare una passeggiata. Sì, se ne va tranquillamente. Ci sono tante cose interessanti sulla scrivania della mamma. Ci sono anche le chiavi di tutte le serrature. Ops, tentativo fallito! Come si apre questa porta? Oh, sta arrivando la mamma! Sembra che sospetti qualcosa. Strano! Non c'è nessuno dietro la porta. Qualcuno è stato qui e ha preso qualcosa. Cosa è scomparso dalla mia scrivania? Scrivilo nei commenti! Puoi camminare solo quando la bambola non ti guarda. E ora è meglio stare fermi immobili. Questi non sono giocatori. Sono statue. Vai, vai! Kevin! Guarda che cheerleader! Il figlio ha chiesto aiuto alla mamma. Deve sbarazzarsi dei suoi avversari. Beh, non dovrebbero ostacolare il mio ragazzo. Sarà fatto! La bambola si è girata. Puoi correre! Morty ha perso. No! No! Gli altri due continuano il gioco. Ross, non sei un fenicottero che sta su una gamba sola. Obiettivo individuato. Solo l'astuto Kevin è rimasto in gara. Ops! Che dolce tentazione! Eccoti! Io ho visto, golosone! Solo un minuto. Chi sta chiamando? Wow! La mamma ha chiesto di ignorare ciò che sta facendo il figlio. È davvero possibile? La sta anche prendendo in giro. I ragazzi si divertono come possono. Ross sta perdendo. Ehi, perdente! Wow! Cheese! Fatto! Bel tiro! Mamma, mi annoio! Per favore, inventa qualcosa! Dagli questi libri. Fallo leggere così diventerà intelligente. Capito? Ross e Morty si stanno ancora divertendo. E Kevin dovrà studiare. Che fallimento! Ehi, secchione! Cosa sta combinando? Che colpo di scena! Aspetta, perché dovremmo fare i compiti per te? Perché lui può chiamare la frontwoman? Mi hai convinto! È un argomento persuasivo. Ora è il momento del tiro alla fune. Sei finito, perdente! Oh, finiscila! Ok, tiriamo! Che competizione agguerrita! Due contro uno! È secondo le regole? Kevin non vuole arrendersi facilmente. Nel frattempo, mia mamma ricorda come tutto ha avuto inizio. Come la bambola l'ha aiutata a vedere il bambino per la prima volta. Che carino! Ha sempre fatto da babysitter ai soldati. E gli ha mostrato a quali giochi giocare. Ehi, perché sei lì seduto? Vai, aiuta Kevin a vincere! Vai! La cosa importante è non commettere errori. La guardia si è schierata dalla parte sbagliata. Sei fuori di testa! La mamma ti ucciderà! Beh, cosa hai fatto? Era così difficile fare quello che ti ho detto. O la tua maschera ti preme sul cervello. Oh, guarda! Te la farò vedere. Mamma, hai visto cosa mi hanno fatto? Il prossimo è un test di precisione. Devi prendere una biglia e lanciarla dentro una buca. Facile! Ora i giocatori mostreranno come si fa. Bene, ognuno prende la sua parte e possono iniziare. Avanti, fratello! Sì, Ross ha centrato il bersaglio. Chi è il migliore? Io! Sì! Certo, almeno fino a quando la guardia non ha deciso di giocare a golf. Amico, sei forte! Non è un posto per i perdenti. Morti è diventato amico di un soldato. Ma Kevin non gli piace. Uno, due, tre! Wow! Quasi rompeva la biglia. Basta, complimenti. Anche Kevin vuole giocare. Ottimo! Oh, wow! Ce l'ho fatta! Grazie per l'aiuto! Wow! I ragazzi devono pranzare. No, coca e uova di cioccolato non sono per i semplici giocatori. Allora non spettano tali prelibatezze. Grazie. Ecco per chi sono i dolcetti. Per favore, daccene un po'. Lasciatemi stare. I ragazzi volevano almeno un ovetto Kinder. Ma l'avido Kevin non vuole condividere. Davvero? Niente da fare. Mentre Ross e Morty mangiano il loro cibo semplice, il piccolo di mamma mangia tutto fino all'ultima briciola. è tutta colpa tua. Se non fosse stato per te... Ehi, prendi il loro cibo, ok? Ehi, cosa fai? È un peccato, ma i poveri ragazzi hanno perso le loro ultime prelibatezze. Ehi, stai andando? Ciao! Oh, è andato tutto bene. Sembra che le telecamere abbiano smesso di funzionare. È successo nel momento peggiore. Wow, questi sono Ross e Morty. E dov'è Kevin? Tesoro, cos'è successo? Chi è stato? È ovvio. Gli amici erano stanchi di perdere sempre. E hanno trovato il modo di fregare il sistema. Ottimo lavoro! Speriamo che trovino un buon nascondiglio. Ciao!